malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene ecco nel leggere l'anno passato il 2023 nel disegnare questo pittoresco scenario economico l'istat ci delizia con una notizia che sarebbe il fatto che l'inflazione media sarebbe cresciuta soltanto del 5,7 per cento e questo fatto ci viene presentato come una grande vittoria ovviamente ignorando che l'anno precedente cioè il 2022 i prezzi aumentarono con una ferocia di un branco di leoni affamati segnando un festoso più 8,1 per cento come dato anno ecco perché nel 2023 abbiamo avuto tra virgolette solo un 5,7 per cento il merito a quanto pare sarebbe da ricondurre al virgolette venire meno leggiamo dal solo 24 ore per esempio venire meno delle tensioni sui prezzi dei consumi energetici ma dei beni energetici ma questo sarebbe un fenomeno insomma tanto raro quanto vedere un asino volare andiamo a chiedere veramente che cosa ne pensa la gente per la strada quando va in un ristorante o quando deve pagare le bollette questo sarebbe interessante e soprattutto andiamo a vedere cosa è successo ai costi dei generi alimentari io ve lo dissi anni fa vi ricordate quando 3-4 anni fa vi dicevo attenzione che esploderanno i prezzi dei generi alimentari eccetera e poi non scenderanno più chiunque come me gira va in un ristorante in una pizzeria in un posto comune una trattoria vi rendete conto di quello che è successo no ecco perché perché i costi alimentari sono esplosi sono esplosi con un balzo anno del più 9,8 per cento e allora davvero possiamo rallegrarci dell'abbassamento dei prezzi energetici che scendono anche qui ma che senso ha più 50,9 per cento nel 2022 più 1,2 per cento nel 2023 ma ha senso secondo voi tutto questo ecco l'inflazione di fondo alla fine l'unica cosa che conta davvero complessivamente si attesta attorno a circa il 5,1 per cento quando a dicembre l'indice dei prezzi al consumo uno dei mesi nei quali si dovrebbe consumare di più no ci sono le feste eccetera segna soltanto lo 0,6 per cento su baso e annua e allora sembra quasi che noi dobbiamo inaugurare una statua a questo evento del fatto che fortunatamente i prezzi crescono meno e sembrerebbe che ci sia un effetto positivo cioè che l'effetto di discesa dei prezzi energetici ci farebbe sperare di poter comprare un barile di petrolio al supermercato ecco siamo in una situazione veramente confusa una situazione veramente sfuggita di controllo i legislatori politici non si rendono conto che dobbiamo dare calma certezza e soprattutto speranza vera all'economia reale perché è l'economia reale che poi dà da mangiare alle famiglie non la finanza malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene